Domenica 21 dalle ore 8 alle ore 22, lunedì 22 aprile dalle ore 7 alle ore 15 si vota per il referendum consultivo per l'istituzione del comune unico per la fusione degli attuali comuni di Figlino e di Incisa. Se sei favorevole traccia una croce sul sì, se invece non sei favorevole traccia una croce sul no. Per votare occorre la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento valido. Si vota nel seggio indicato sulla propria tessera come avviene normalmente per tutte le altre consultazioni elettorali.